Bentornati a tutti, siamo qui oggi con il nostro consulente finanziario Alessandro Romagnolo. Di cosa ci parla? Oggi vi parlo dei piani di accumulo. I piani di accumulo è una modalità di investimento, non una forma di investimento, ma ripeto una modalità di investimento, tra le più semplici e versatili, perfetto per avvicinarsi al mercato. Tra i suoi vantaggi ha quello di domare la volatilità e di aggirare il problema del market timing. Ci puoi spiegare cosa sono la volatilità e il market timing? Certamente. La volatilità è uno dei concetti base della finanza. Misura la variazione percentuale del valore di un titolo o di un portafoglio, sia essa negativa o positiva, e si misura in percentuale rispetto al prezzo medio di un titolo o di un portafoglio. In poche parole, misura le oscillazioni di valore. Il market timing, invece, è una strategia di investimento con la quale si cerca di cogliere il momento più profittevole per operare sui mercati. In pratica, si cerca di comprare prima di un rialzo e di vendere prima di un ribasso. Fare market timing, potete immaginare, è molto difficile e si può rivelare anche piuttosto pericoloso. Ecco perché avere un piano prestabilito, con un orizzonte temporale e la consapevolezza che i mercati oscillano, aiuta a non farsi prendere dal panico. Ci sta dimostrando la valenza dei piani d'accumulo. Ci sono anche altre caratteristiche? Sì, i piani d'accumulo aiutano il risparmiatore italiano più scettico a non lasciare i soldi in conto corrente e a superare i tanti interrogativi che lo assillano. Posso investire anche se ho pochi soldi? E se fosse il momento sbagliato per entrare sul mercato? Cosa faccio se mi capita un'emergenza e i soldi mi servono? Una risposta a tutti questi dubbi può essere appunto il piano d'accumulo, per la cui attivazione, infatti, sono sufficienti anche solo 50 euro al mese o in linea alle esigenze di ognuno di noi e alla soluzione scelta. Quali vantaggi può dare ancora rispetto ad altre forme di investimento o a lasciare i soldi nel conto corrente? Beh, prima cosa abbiamo visto che innanzitutto non servono grosse somme per investire, perché il capitale si forma accumulando mese per mese. Dunque una modalità aperta a tutti. Secondo, entrando nel mercato in un tempo prolungato permette di aggirare il problema del market timing. L'investimento viene spalmato in un periodo medio-lungo. Si doma inoltre la volatilità, perché in questo periodo medio-lungo andrà senza dubbio incontro a periodi negativi e positivi. Risultato? Si farà una media del rischio-volatilità. Ci fa un esempio? Certamente. Cominciamo a investire in un determinato periodo di mercato e immaginiamo che successivamente i mercati scendano. I versamenti successivi al primo consentiranno di incrementare la propria quota di investimento, ma a prezzi più convenienti, abbassando la media di prezzi rispetto all'ingresso e domando la volatilità. Rispetto alla piramide dei bisogni, dove si posiziona il piano di accumulo? Il piano di accumulo si colloca nella parte dell'investimento, in quanto consente di darsi degli obiettivi di medio-lungo termine. Si può utilizzare per accantonare dei soldi o come alternativa all'apertura di un conto coerente per la nascita di un bambino, per accantonare dei soldi in vista dell'università dei figli o per coprire un bisogno di previdenza alternativa. Ed infine, proprio per il fatto di non dover investire grosse somme subito e di entrare a scadenze prestabilite, come già detto, ha come non ultimo vantaggio quello di domare l'emotività. Grazie mille, alla prossima puntata. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti e arrivederci a presto.